Più volte questo è stato ripetuto questo pomeriggio, ed è così realmente. Si tratta di un impegno difficile. Da sindaci diventate i volti e le braccia della Repubblica. Poco anzi qualcuno ha detto le braccia operative della Repubblica. E la Repubblica vive della partecipazione dei cittadini, affinché la comunità nazionale e quelle locali crescono in libertà e migliorino il nostro modello sociale. La forza della nostra democrazia risiede nella capacità di rispettare la pluralità e di comprendere quando è in gioco il bene comune che richiede un impegno condiviso. Il senso più profondo delle istituzioni sta proprio nella coscienza dell'interesse generale. che mai va smarrita nel confronto, a volte aspero, sul cambiamento da realizzare.